Il premio Franco Razionale, il giornalista crotonese sportivo, giunge alla sua quindicesima edizione. Ma quest'anno, il set di sabato, come verrà a raccontarlo? È un'edizione importante e non solo dal punto di vista numerico, perché quindi c'è un bel traguardo, ma è importante perché ormai ha una sua storia il premio. Nel corso degli anni abbiamo parlato di tante cose. Quest'anno vogliamo finalizzare il discorso della tematica sociale su quella che è la violenza sulle donne e l'omofobia. Perché? Perché è un problema sociale abbastanza ricorrente, ancora per quanto se ne possa dire ci sono situazioni negative in merito. Soprattutto le donne, per quanto riguarda le violenze, il 95, anche il 98% delle violenze verso le donne sono meno quelle verso gli uomini. Quindi, in conseguenza, soprattutto per quanto riguarda le donne e anche per quanto riguarda l'omofobia. Premesso questo, volevo dire che inviteremo Vladimir Luxuria e Greta Beccaglia, che sono due persone che hanno subito violenza e quindi testimonieranno la violenza subita durante i loro percorsi di vita. Non parleremo di altre situazioni. Chi sono i premiati quest'anno? I premiati sono, io avevo l'elenco prima, lo stavo per leggere, Fabrizio Ruggero per lo sport. Poi c'è Maurizio Condipodaro, che è il presidente del CONI nazionale, sempre per lo sport, come amico dello sport, come facente parte attraverso la sua carica. Poi CONI regionale, forse ho detto nazionale, quindi correggio, Maurizio Condipodaro. Poi c'è Antonio Lopez di Rai3, poi c'è il dottor Antonio Marullo per i suoi trascorsi sportivi, come medico sociale. Poi daremo un riconoscimento a Luxuria e uno a Greta Beccaglia, questa giornalista di Toscana TV, che è stata molestata in diretta televisiva. Innanzitutto ringrazio tutti gli organizzatori, il team Spiero, Claudio e tutti quelli che ogni anno si impegnano per far sì che il premio diventi, tra parentesi, come un'istituzione, specialmente quest'anno nel mese mariano. Il discorso di mio fratello penso che è rimasto nel cuore di tutti, anche a distanza di 17 anni dalla sua dipartita, in quanto chiunque ti vede è come se avesse parlato ieri con mio fratello. Il discorso sociale è un discorso che va associato al premio di Franco, è un qualcosa di importante, che sicuramente mio fratello avrebbe preso a pieno questa situazione qua. Qual è il suo ricordo personale, se posso permettermi, di Franco? Ricordi sono tantissimi. Il fatto di pensare quando rientrava a casa e sentivi proprio l'entusiasmo di quando entrava, quando ti sorrideva, sempre col sorriso verso tutti. E poi, dei alti ricordi, purtroppo, ahimè, nel discorso della malattia, nella conoscenza proprio diretta della malattia, che lui, ho un aneddoto da dire, che quando è stato a Pavia, un primario mi ha detto suo fratello lo deve distogliere, perché è una persona molto intelligente, quindi aveva capito pienamente qual era la sua situazione. Ora, però, il suo ricordo continua a vivere ogni anno, grazie a questa manifestazione. È bello che la città non lo dimentichi. Questo è importante, ci regolisce come famiglia e ricordo ogni anno, come sempre, tutti i giorni, ricordare Franco, ha lasciato un segno indelebile a Crotone, come voce del Crotone Calcio, e in più come persona che, secondo me, nessuno dimenticherà, perché è rimasto nei cuori di tutti. Grazie a tutti.